In questo video vedremo quanti tipi di marketing esistono. 1. Marketing relazionale Si concentra sullo sviluppo della fiducia del cliente. 2. Marketing empatico Crea empatia personalizzando i messaggi. 3. Marketing esperienzale Si concentra sull'esperienza d'acquisto. 4. Marketing tribale Sviluppa il senso di appartenenza alla community. 5. Buzz marketing Si occupa del passaparola e di rendere virale un brand. 6. Guerriglia marketing Crea azioni spettacolari in luoghi di passaggi. 7. Neuromarketing Utilizza strumenti di analisi per conoscere il comportamento dei clienti. 8. Neuromarketing 8. Neuromarketing 8. Neuromarketing 9. Neuromarketing